Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Buonasera, bentornati al nostro consueto appuntamento con le manifestazioni. Andiamo subito a scoprirle insieme. Proseguono gli appuntamenti con i percorsi turistici culturali organizzati da Promoserio in collaborazione con il Distretto del Commercio e Artelier. Questa settimana segnaliamo sabato 20 dicembre aspettando il sostizio d'inverno dall'acqua al cielo. Dalle 21 clusone insolita visita guidata alla scoperta dell'orologio ad acqua e dei segreti dei meccanismi storici da torre e da edificio al Museo Arte e Tempo. Domenica 21 dicembre scoprire la castione inedita ricca d'arte e di tradizioni di un mulino e di un mistero. Dalle 15 e 30 itinerari alla scoperta di castione della Presolana con un mistero che sarete proprio voi a dover risolvere. Sabato 20 dicembre a Parre torna a Party Par. Dalle 15 alle 23 l'intero paese sarà in festa aspettando il Natale. Simpatiche gare di schias, spettacoli di giocoleria e col fuoco, trucca bimbi, laboratorio artistico presso il Museo Archeologico, esposizione di Harley Davidson, canti tipici in abiti tradizionali e dimostrazioni di antichi mestieri. In serata aperitivo con DJ e menù speciale in tutti i ristoranti e per concludere karaoke concerto finale in Piazza San Rocco. Sabato 20 dicembre al Via d'Ardesio Natale in Contrada. Le storiche contradi di Ardesio si sfidano nel concorso per il miglior allestimento in tema natalizio. Luci, decorazioni, sculture, installazioni illuminano e riscaldano gli angoli più suggestivi del paese e delle frazioni. Domenica 21 dicembre numerosissimi gli appuntamenti dedicati al Natale e all'atmosfera e natalizie. Ad Alzano Lombardo musica per le vie. Le suggestive noti di Corno a Musi allimeranno le vie del centro storico. Nel pomeriggio in Piazza Italia concerto gospel. Dalle 14 per le vie di Bondo di Colzate, Natale e Vagabondo. Mercatini di artigianato e hobbysti, musica ed esibizioni di rapaci. Arrivo di Babbo Natale e ricamerenda per tutti. Nel pomeriggio a Premolo il magico Natale di Premolo. Bancarelle con prodotti tipici artigianato locale, animazioni per bambini e artisti di strada. Alle ore 20 e 30 presepio vivente a seguire canti natalizi e letture. A Nembro, lungo le vie del centro storico, molteplici punti di animazione per i più piccoli e degustazione di prodotti natalizi per adulti. A Cazzone della Presolana, ultimo weekend questo per gli acquisti e una serie di eventi legati ai mercatini di Natale, allestiti nelle caratteristiche casette in legno in Piazza Donizzetti. Proseguiranno invece fino a domenica 28 dicembre gli incontri con Babbo Natale nella magica casetta allestita a Gandino nel suggestivo chiostro di Santa Maria. Durante il fine settimana numerosi anche i concerti. Sabato 20 dicembre alle F concerto gospel The Friendly Travelers dalle 20 e 45 presso la chiesa di San Martino. Il 21 dicembre a Parre il concerto della cantante americana Joyce Elaine Yule alle ore 21 presso la nuova struttura dell'oratorio. 21 dicembre il concerto anche a Son Gavazzo con il coro di Voci Bianchi e Giovanile e Gli Armonici alle 21 presso la chiesa parrocchiale. Segnaliamo infine il 22 dicembre a Coler il coro degli Angeli di San Pellegrino dalle 20 e 30 presso la chiesa parrocchiale. Ultimo evento per questa settimana domenica 21 dicembre a Fiorano al Serio l'ottava camminata di Babbo Natale. Alle 14 e 30 camminata non competitiva per tutti i partecipanti travestiti da Babbo Natale su percorsi da 3, 7 e 11 chilometri. E passiamo ora alla consueta notizia da Promo Serio. Interessante collaborazione tra le strutture associate e le stazioni sciistiche delle valli. Grazie alla mediazione di Promo Serio i clienti che soggiorneranno presso hotel e bed and breakfast associati a Promo Serio avranno diritto a biglietti giornalieri e pruri giornalieri a prezzi agevolati per sciare a Coler e Monte Porra e spiazzi di Gromo con l'obiettivo di incentivare il turismo invernale e agevolare i turisti che sceglieranno le strutture associate. E con questa notizia anche per questa settimana è tutto. Come sempre vi ricordo il nostro sito www.valseriana.eu e vi do approntamento al prossimo mercoledì. Buonasera. Promo Serio eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalte.